ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video oggi ragazzi recensione e allora victor è un produttore noto rivenditore anche su amazon mi ha oggi fornito questa videocamera da esterno telecamera wifi da esterno 1080p ragazzi la cosa carina di questa telecamera è l'angolo di registrazione o meglio l'obiettivo può ruotare di 360 gradi orizzontalmente e 110 gradi verticalmente il tutto pilotato comodamente da un'applicazione perciò tu dal tuo diciamo smartphone tablet potrai andare a girare facendo ruotare appunto tramite i motori servomotori interni l'obiettivo monta un obiettivo a diciamo a largo raggio così da prendere diciamo più spettro video così da anche eliminare riducendo la zona cieca e la telecamera victor può sempre tenere sotto controllo il tuo giardino il tuo parcheggio la tua entrata il tuo drone condominiale e funziona diciamo in maniera smart perché se capta un rumore un movimento in automatico ti invierà una notifica sul tuo smartphone appunto chiedendoti se è necessario un intervento da parte tua e la telecamera inoltre se vede diciamo per esempio se capta un movimento di una persona che si sta muovendo nell'arco diciamo della sua registrazione la telecamera stessa in automatico intelligentemente cosa farà seguirà lo spostamento di questa persona o eventualmente anche di un animale può essere un cane può essere un gatto perciò nel caso in cui fosse un ladro e dal momento in cui la telecamera lo capta ti invia la notifica inviando di la notifica in nello stesso tempo continuerà a registrare e in più seguirà tutto il suo spostamento a micro sd c'è una memoria esterna in più però eventualmente a pagamento potrai registrarti sul cloud online victor per poter tenere tutto diciamo sulla nuvoletta per non perderlo mai la tecnologia che hanno diciamo ho installato su questa videocamera è anche molto professionale perché perché se eventualmente un ladro volesse smontare la telecamera rubare la memoria non potrà utilizzarlo perché dal momento in cui tu vai a smontare questa micro sd e non sarà leggibile da un computer perché perché è la telecamera stessa registra in un formato criptato questo vuol dire che può essere solo ed esclusivamente letta cioè i video tu li potrai vedere solo ed esclusivamente dal tuo smartphone e da lì li potrai trasferire da sul tuo pc o reserva o tramite mail però tutto da fare sempre tramite la tua applicazione abbiamo detto micro sd massimo 64 gb qui come visto c'è un interruttore per il reset più il vano micro sd la visione al buio è molto buona grazie ai 12 led di media potenza da 850 nanometri che come sappiamo è infrarosso perciò ha un ottimo comparto luminoso infrarosso per appunto avere una visibilità notturna niente male per quanto riguarda poi l'uso ragazzi è carina compatta fatta bene ben isolata può funzionare sotto la pioggia può funzionare anche sotto la neve senza nessun problema la qualità video e 1080 full hd sia in notturno che in diurno è a un'altra chicca ragazzi un super speaker o meglio altoparlante installato nella calotta superiore che questo o altoparlante ti funge da diciamo interfono cioè se tu a distanza ricevi cioè sei in un'altra città nel tuo appartamento non c'è nessuno si avvicina qualcuno malintenzionato tu oltre a registrarlo e sapere i suoi spostamenti tramite la videocamera potrai andare a cliccare un tasto sull'applicazione e parlare sul tuo smartphone per esempio ehi tu che cosa fai qui battene la telecamera in tempo reale diciamo amplificherà questo tuo audio in tempo reale attenzione è come un interfono a tutti gli effetti e verrà diciamo ascoltato sentito diffuso nella zona di interesse della telecamera così eventualmente il malintenzionato sa che lo stai guardando sa che stai parlando con lui e se ne va via in dotazione libretto di istruzioni e l'alimentatore che un 5 volt usb il cavetto di connessione sarà un 45 metri circa e per utilizzarlo ovviamente deve andare a creare una cassetta di derivazione esterna là dentro mettere un cavo 220 dove andare a connettere il suo alimentatore dedicato alimentatore dedicato che questo in dotazione perciò con una ciabattina piccolina o una presa ecco una presa 220 vai a fare la connessione 220 e poi alimentare la telecamera il software l'app dati in dotazione è tua smart è un app che io personalmente utilizzo moltissimo si comporta bene è molto versatile e non ha bug funziona bene anche se usi i dati mobili perciò quando sei fuori casa può anche funzionare con wifi dell'appartamento puoi condividere diciamo l'app anche con i tuoi parenti per esempio con tua moglie con i tuoi figli per avere tutti sotto controllo sempre casa ricevendo tutti in contemporanea le notifiche e poi c'è anche la possibilità di montarne più di una ovviamente montandone più di una sempre tramite l'app potrai chiamarla telecamera per esempio magazzino telecamera telecamera entrata telecamera scale telecamera retro eccetera eccetera quando ti arriva la notifica sai a prescindere da dove arriva quella notifica da quale telecamera sta arrivando quella notifica così da poter appunto andare a vedere cosa eventualmente succede niente ragazzi il prodotto come ti ho detto è valido funziona bene mi piace anche come qualità come materiali se ti interessa sotto in descrizione ti lascio il link ad amazon e in promozione ottimo prezzo valutando effettivamente che non parliamo di una normale telecamera statica questione delle camera dinamica ragazzi uno perché si muove in autonomia cioè si sposta ti segue anche se capta capta movimento o eventualmente tu dallo smartphone la potrai andare a far muovere e spostare a tuo piacimento il consumo a un bassissimo consumo energetico ovviamente funziona sia tramite wifi perciò deve andare a cablarla fare diciamo la registrazione con con la tua linea wifi di casa dando il password del router eccetera eccetera o in alternativa anche via cavo perché nel retro dove appunto ci sono i tre fori per installazione a muro del delle viti potrai andare anche a connettere un cavo ethernet cavo ethernet che ti permetterà di utilizzarlo con un registratore quelli fissi dvr eccetera eccetera ecco con ingresso o lan ragazzi per questo vi è tutto grazie per la visione iscriviti al canale ciao e al prossimo video